Odissea ieri sera sul treno Milano Centrale Chiasso delle ore 19.25 che ha fermato la sua corsa alle 20.30 per circa due ore tra Albate Camerlata e Carimate con circa 80 persone a bordo. La causa riferita è stata al danneggiamento della linea aerea. In seguito al guasso tutti i treni in partenza da Como San Giovanni per Milano e in arrivo da Milano sono stati cancellati mentre i treni provenienti da Milano e diretti in Svizzera sono stati deviati sulla linea Monte Olimpino 2. Visto il prolungarsi dell'interruzione del viaggio si era ipotizzata inizialmente una linea bus sostitutiva che potesse condurre i passeggeri a destinazione ma tutti hanno preferito rimanere a bordo in attesa che il guasso venisse riparato. Oltre al forte ritardo non sono stati segnalati altri disagi per i passeggeri. Luce e riscaldamento non hanno mai smesso di funzionare. Intorno alle 23.20 dopo l'intervento dei tecnici il treno ha ripreso la sua corsa. opianese il treno ha ripartito 3.55 Avistando 7. gre